Il quale signore è vissuto una volta in un paese, ma è vissuto in un tempo lontano da noi, è vissuto in un paese lontano da noi, quindi per noi non sarebbe sufficiente, noi abbiamo bisogno di un contatto, naturalmente noi lo sapevamo, e allora ha voluto restare in mezzo a noi operanti come era quando era in vita, e quindi ha istituito i sacri.